Quadrado. Sette, otto. O, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. O, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ma come funziona? Ciao! Siamo Cristiana e Elena. Abbiamo insegnato ballo per moltissimi anni e ora lo facciamo online. Abbiamo creato Salsagaia.com, la scuola di ballo online per imparare salsa, baciata, chizomba e molto altro direttamente da casa tua. Andiamo al video. Benissimo, facciamo da soli e ognuno partirà col proprio piede, sinistro uomo, destro donna. Un passo laterale, uno, e chiudo due. Ok? Poi, per l'uomo avanti, per la donna e indietro, sempre passo e tappo in quel caso. Tre e quattro. Ora, laterale per entrambi con il proprio piede. Cinque e passo sei. E indietro per l'uomo avanti, per la donna, sette, otto. E ripartiamo. E un, due, tre e quattro, cinque, sei, sette, otto. Apro, chiudo, passo, tap. Apro, chiudo, passo, tap. Apro, chiudo, passo, tap. In coppia. Sette, otto. Apro, chiudo, passo, tap. Apro, chiudo, passo, tap. Attenzione, né la spingo quando andiamo avanti, né la tiro quando andiamo indietro. Qui, siccome la donna dovrà sempre, sempre in tutti i balli dare un controcomando, cioè non avere le braccia flaccide, perché se le braccia le tiene molle, io quando vado avanti non spingo niente, o quando tiro, eh? Invece, se lei ha quella, non rigide, ma quella giusta tensione, sentirà semplicemente che il mio corpo si sposta nelle varie direzioni. Quindi non avrò bisogno né di spingerla, né di tirarla. Semplicemente tengo, in questo caso, le dita che fasciano la mano, non stringendo, leggeri, e vado a fare i miei passi. Lei capirà. Sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Apro, chiudo, passo, tap. Apro, chiudo, passo, tap. Apro, chiudo, passo, tap. Apro, chiudo, passo, tap. Con la musica. Lasciaci un like, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornato su nuovi video in uscita. E se hai una domanda, perché no, mettila tra i commenti. Noi saremo felici di risponderti. Soprattutto se conosciamo la risposta. Eh già. Se invece vuoi avere accesso ad oltre 600 video lezioni divise per discipline e per livello, visita il nostro sito salsagaia.com la tua scuola di ballo online. Oh yes! Musica! Cinque, sei, sette, via. Apro, chiudo, passo, tap. Apro, chiudo, passo, tap. Apro, chiudo, passo, tap. Apro, chiudo, passo, e. Spostamento della dama. E apro, chiudo, passo, tap. Apro, chiudo, passo, tap. Apro, chiudo, passo, tap. Apro, chiudo, passo, tap. E ci vediamo alla prossima lezione.